Ormai erano stati dati per certi, ma al momento non arriveranno. Sono i 18 milioni previsti dal bando ministeriale per la riqualificazione delle aree degradate. Sono stati resi pubblici i risultati del bando ministeriale. Il comune di Arezzo è arrivato 35esimo su una graduatoria di 120 a livello nazionale. Al momento vengono assegnati finanziamenti, però solo ai primi 24 comuni. Dunque Arezzo è fuori. Ed è al momento una grande occasione che sfuma anche se esiste qualche possibilità forse di ripescaggio. Il progetto stilato dal comune mirava a riqualificare un'ampia fetta della città ormai divenuta ai margini e anche oggetto di fenomeni di degrado come i giardini del Porcinai passando per Saione per poi spostarsi in periferia, soprattutto nelle frazioni. Il sindaco Ghinelli aveva detto che con quei fondi si sarebbe cambiato il volto della città. Purtroppo, pur con questo ottimo piazzamento, Arezzo non ce l'ha fatta a piazzarsi nel podio che conta nei primi 24. Il risultato, sottolinea l'amministrazione comunale, è comunque importante dato che il progetto presentato dal comune di Arezzo è stato valutato positivamente. Ha ottenuto infatti un ottimo punteggio. Per questo il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore lavori pubblici Gianfrancesco Gamurrini ringraziano gli uffici manutenzione e opere pubbliche per il lavoro svolto al fine di partecipare al bando ministeriale, auspicando che venga rifinanziato l'importo inizialmente previsto, così come annunciato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, in modo che anche Arezzo possa realizzare le opere previste.